Ciao, ed eccoci al terzo video sugli insegnamenti di Tafti, dove vado a illustrare il terzo movimento per la gestione della nostra realtà. Questo è il Transurfing avanzato, trasmessoci da Zeeland nel suo ultimo libro pubblicato in italiano, questo, perlomeno attualmente, Tafti la sacerdotessa, e questo insegnamento si basa su tre aspetti, cioè per gestire la realtà, per far manifestare le cose che veramente desideriamo, dobbiamo muovere la realtà, muoverci e muovere noi stessi o noi stesse. Adesso mi concentro su questo terzo punto. Il terzo movimento, cioè muovi te stessa, muovi te stesso, si suddivide in due aspetti. Il primo è agisci, avvicinati al tuo fine facendo. Non basta quella che Zeeland chiama la metafisica da divano. Certo, a volte accadono delle cose incredibili impostando la realtà, visualizzandola, sentendoci e calandoci già in questa nuova realtà, perché arrivano persone che ci parlano di cose che sono perfettamente congruenti al nostro fine, si aprono nuove possibilità, facciamo degli incontri completamente imprevisti, quindi possano accadere tante cose, ma bisogna anche noi muoverci. Se nel nostro fine dobbiamo sviluppare delle competenze, dovremo iscriverci a decorsi o fare delle pratiche per effettivamente svilupparle. Quindi, datti da fare. Questo è il primo aspetto del terzo movimento. Tra parentesi, è l'unica cosa che solitamente le persone fanno. Tutti gli altri aspetti non vengono presi in considerazione in una società che tendenzialmente è molto materialistica, molto poco aperta a quello che è, anche se si sta sviluppando sempre di più, il vero potenziale della mente. Agire, avvicinarsi al proprio fine, darsi da fare. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è fare se stessi, fare se stesse. Che cosa significa? Fare noi stessi, che a volte in alcuni gruppi spirituali è chiamato anche fare anima, è definito come fare anima. Significa alimentare la nostra dimensione spirituale, risvegliarla, farla crescere, potenziarla. Come si fa? Questo lo facciamo attraverso pratiche energetiche, pratiche fisiche, anche proprio con l'esercizio fisico che è fondamentale per il nostro benessere, pratiche di meditazione, letture che ci risvegliano, che ci illuminano, che ci ricordano chi siamo veramente, gruppi di risonanza, cioè frequentare di persona o online gruppi di persone a noi affini che ci ricordano anche qui chi siamo e l'alimentazione viva, alimentazione tendenzialmente vegetale e cruda che ha il massimo impatto sul nostro organismo e sulla nostra mente, proprio ha una potenzialità straordinaria di elevare la nostra energia vitale e varie altre. Quindi accendere la scintilla divina che in noi, Tafti a volte la definisce la scintilla del creatore, significa risvegliare la nostra dimensione più sacra e siccome tutti noi siamo venuti in questa vita con un compito, nel senso che abbiamo determinate caratteristiche fisiche, emozionali, mentali, anche spirituali, che sono specifiche per qualcosa e completamente inadeguate per tante altre cose, alimentando la scintilla divina che in noi, noi risveglieremo anche la nostra missione. Possiamo non sapere quale sia la nostra missione di vita, sicuramente se siamo molto insoddisfatti o insoddisfatte non ci siamo all'interno, ma in questo modo ci diverrà chiara poco alla volta. Questo è uno dei modi un po' geniali con cui gli insegnamenti di Tafti risolvono il problema del ma qual è il mio fine di vita, che invece era molto presente nei precedenti libri del Transurfing. Qui dice semplicemente fai te stessa, fai te stesso, sviluppati, cresci come persona e come essere spirituale e questa risposta emergerà in maniera spontanea. Bene, e con questo noi possiamo muoverci dal vivo all'interno del film della realtà. Questa è Tatiana, la persona che ha dato il volto, il corpo alla Sacerdotessa Tafti, tra l'altro è una delle formatrici leader, credo proprio la fondatrice del Transurfing Center, quindi è completamente immersa all'interno di questa visione e in modo molto spiritoso e carino ha rappresentato la Sacerdotessa Tafti in tanti modi, quindi non solo sulla copertina del libro, ma ci sono per lo più in russo un solo video, per il momento è sottititolato in inglese, anche dei video molto belli, interessanti, su YouTube che approfondiscono questa visione di Tafti. All'interno del nostro film, all'interno della nostra vita, solitamente siamo addormentati. Perché? Perché la nostra attenzione, il nostro essere, non ci appartiene. La nostra attenzione è rapita all'esterno, dalle cose che avvengono, oppure dall'interno dei nostri pensieri, non siamo mai veramente presenti a noi stessi. Nel momento in cui riusciamo ad esserlo, nel momento in cui ci ricordiamo che sperare, volere, sognare non serve, perché noi abbiamo un potere molto più grande che quello di impostare, ecco che possiamo muoverci non come personaggi inconsapevoli, addormentati dentro il nostro film, ma come personaggi vivi. I tre movimenti, quindi l'algoritmo, nel senso la procedura per svilupparli completamente, è ricordarsi di muovere la realtà, cioè di impostarla. Torniamo a uno stato di presenza, percepiamo la trecina dell'intenzione, ma in particolare la sua punta, cioè il centro dell'intenzione esterna, che è ciò che muove le varianti, e poi iniziamo appunto a visualizzare, a calarci nella nuova realtà. Poi mi muovo, no? Il muoversi significa con gli altri, non volere cose dagli altri, non pretendere, ma dare. E nel momento in cui rinunciamo ad avere, e cominciamo a dare, alla fine otterremo ciò a cui all'inizio avevamo rinunciato, e quindi se rinunciamo al fatto che gli altri devono amarci, 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 e noi cominciamo a dare amore, alla fine gli altri ci ameranno, per riflesso. E così via per tanti altri aspetti della realtà che abbiamo brevemente, insomma, già visto. Il secondo punto del muoversi corrisponde al simulare, simulo, a volte praticamente, cioè agisco come agirei se il mio obiettivo fosse già stato realizzato e raggiunto. Oppure interiormente, mi muovo interiormente, mi percepisco, mi ascolto, mi sento, mi vivo, come se, quindi con quel determinato stato d'animo, con quelle determinate percezioni, come se il mio obiettivo, appunto, si fosse già realizzato. È una delle parti forse più complesse, che sfugge spesso e volentieri, ma ricordo che è una delle parti fondamentali e che può dare molta più efficacia a tutto il movimento complessivo. Infine, quello che abbiamo visto in questo incontro, muovo me stesso, muovo me stessa in due modi, agisco concretamente, mi do da fare per avvicinarmi al mio fine e poi mi do da fare per svilupparmi, per crescere, per sviluppare il mio potenziale, per risvegliare la mia dimensione divina, la mia dimensione più sacra interna. Il movimento complessivo, questo movimento passeggiata, si è fatto in tutti questi tre aspetti e nel caso pensassi che non sai bene come farlo, che forse sbagli, forse non importa, fallo, agisci, poi lo sistemerai nel tempo, lo capirai meglio attraverso i video che posso fare, attraverso il percorso completo di sviluppo integrale, che è disponibile online, dove ci sono molte altre risorse, oltre che al Transurfing, anche se resta una delle più importanti, attraverso la lettura dei libri di Zela, inizia ad agire, non preoccuparti se pensi di non farlo bene, fai, non ti preoccupare e più agirai questi tre movimenti e più vedrai la realtà muoversi, cambiare, trasformarsi attorno a te e anche tu cambiare all'interno della tua realtà. L'applicazione metodica, consapevole di tutti questi processi porta sicuramente al risultato desiderato. Bene, ti ringrazio per aver visto questo video e ti saluto, ciao, a presto!